Canto 32 Allora non senza paura e timore mi accingo a parlare, infatti non è impresa facile o da prendere per scherzo descrivere il fondo dell'universo che è il fondo dell'inferno e dell'animo umano, né è da linguaggio infantile semplice come per chiamare mamma e babbo. Allora quelle donne, cioè le muse, aiutino il mio verso. Infatti esse già aiutarono e accompagnarono Anfione quando costruì le mura di Tebe con il suono della lira, dando così l'esempio di un'impresa straordinaria compiuta mediante la poesia. Non nel senso però di ispirazione, quanto nella possibilità di tradurla in versi. Oh voi traditori, peccatori più di tutti gli altri che state in quel luogo, del quale è così difficile parlare e spiegare, e che siete stati condannati per tutti quei vostri tradimenti perpetrati nel mondo, meglio se sulla terra foste state bestie come pecore o capre. Quando fummo giù nell'oscuro pozzo ancora più in basso del posto in cui poggiava i piedi il gigante, ed io ancora guardavo la parete alta della roccia senza poter vedere i dannati, sentii dirmi Guarda dove metti i piedi! Cerca di andare in modo da non calpestare le teste dei miseri fratelli disperati! Appena mi voltai, vidi davanti a me e sotto i piedi un lago che sembrava per il ghiaccio più un grande vetro che acqua. Il Danubio in Austria non fece lungo il suo corso d'inverno un così grosso vero di ghiaccio, né il Don sotto il freddo gelo della Russia, e sembrava tanto spesso che se vi fosse caduto sopra il monte Stamberlicche, nelle Alpi Apuane o il monte Pietrapana, non avrebbe scricchiolato neppure in superficie, e come se ne sta la rana a gracidare con il muso fuori dall'acqua al principio dell'estate, quando le contadine sognano di spigolare, nello stesso modo, livide per il freddo, le anime dei dannati erano immerse nel ghiaccio fino al volto, battendo forte i denti per il gran freddo, con quel rumore che fa anche la cicogna quando batte il becco. Ogni pecatore teneva la faccia rivolta verso il basso, mentre il grande tormento si manifestava attraverso quel battere dei denti ed il pianto degli occhi. Quando poi ebbi ben osservato intorno a me, guardai in basso, e vidi due dannati, così stretti tra loro, che avevano i capelli della testa confusi fra loro. Io dissi, ditemi, voi che state così uniti, chi siete? E quelli alzarono la testa, e dopo che ebbero alzato lo sguardo verso di me, i loro occhi, che già erano bagnati, cominciarono a gocciolare lacrime lungo il viso. Così le due bocche che erano vicine venivano strette fra loro dal rapido gelare delle lacrime che vi si posavano sopra. Ma i due legni strinsero così fortemente una spranga. Il ghiaccio univa quei due come una spranga fra due legni, per cui essi come due caproni. Per il loro reciproco immenso odio rabbioso, cozzarono l'un l'altro nello sforzo di liberarsi da quell'infernale legame. Ed uno, lì vicino, che per il freddo aveva anche perduto gli orecchi, pur con il viso abbassato, disse «Perché ci guardi tanto? Se vuoi sapere chi sono quei due?» «Ebbene, quelli sono due fratelli, Napoleone e Alessandro, figli di Alberto degli Alberti, conti di Mangona in Val di Sieve e dei castelli di Vernio e Cerbaia in Val di Bisenzio. Morirono insieme, uscendone insieme dal corpo, e potrai cercare in tutto questo luogo che si chiama Caina, ma non troverai anime più degne di essere immerse in questo lago ghiacciato. Neppure Mordrek, che pur essendo figlio di Re Artù, tentò di uccidere il re e suo padre. Ma poi il re uccise lui, trapassandogli il petto con un colpo di lancia, e poi, quando la lancia fu estratta, il sole passò la larga ferita così che fu spezzata anche l'ombra stessa del corpo di Mordrek. E non fu tanto degno neppure focaccia, e neppure questo che sta qui vicino a me e che mi ingombra con la testa così che io non posso vedere più oltre, e che si chiama Sassolo Mascheroni. E se tu sei toscano dovresti sapere di questo fatto perché egli fu ghigliottinato proprio a Firenze. Ora, finché tu non mi costringa a parlare ancora, sappi che io fui Alberto Camicione De Pazzi, e aspetto qui Carlino De Pazzi di Valdarno, che con la sua colpa farà sembrare più lieve la mia. Infatti io uccisi a coltellate un mio congiunto, Umbertino, per impadronirmi di alcune fortezze che avevamo in comune. Carlino De Pazzi di Valdarno invece teneva per conto dei bianchi fiorentini il castello di Piantravigne che cedette però, tradendo per denaro e per ottenere il rimpatrio ai neri di Firenze. Per questo tradimento molti bianchi morirono, Carlino fu dunque un grande traditore politico, e la sua colpa è stata ben più grave della mia, e lui cadrà nella zona che segue il cocito, l'antenora. Dopo questo incontro vidi mille volte i paonazzi per il freddo, e per questo mi venne il ribrezzo, e mi verrà sempre ogni volta che mi trovo davanti una gelata. Mentre andavo verso il centro dell'universo, dove vengono attratti tutti i pesi per gravità, e tremavo in quel freddo eterno, forse per volere del destino o per fortuna, mi capitò, camminando fra quelle teste orribili, di battere forte un piede nel viso di una di quelle teste. Piangendo, mi sgridò. — Perché mi pesti? Se tu non sei venuto ad aumentare la vendetta di Montaperti, perché mi tormenti? — Maestro mio, aspettami qui affinché io chiarisca con costui ogni dubbio, poi mi farai fretta quanto vorrai. Il duca si fermò, ed io dissi a quello che continuava a bestemmiare ancora duramente, «Chi sei tu che ti permetti di rimproverare così gli altri? — Allora tu chi sei, che vai percuotendo per l'antenora infernale la faccia altrui, così che se fossi ancora vivo, certo non lo sopporterei! — Io sono vivo, e se vorrai potrò ancora esserti utile, perché se ti farà piacere essere ricordato, io metterò anche il tuo nome fra tutti gli altri ricordi di questo mio viaggio! — Io invece desidero proprio il contrario! Levati di qui e non darmi più noia, perché queste lusinghe in questo luogo, in questo senso, cioè fra noi traditori, non servono proprio a nulla! Allora io l'ho presi forte per la collottola, e gli dissi, «Converrà che tu dica chi sei, o ti strapperò tutti i luridi capelli! Se anche mi strapperai tutti i capelli, non ti dirò mai chi io sia, né te lo farò intendere, neppure se mi cadrai addosso mille volte con altri colpi ben più violenti!» Allora io avevo già i suoi capelli fra le mie mani, e ne avevo già tirati alcuni ciuffi, mentre lui si lamentava con gli occhi abbassati, quando un'altra anima dannata che stava lì vicino gridò, «Chi ho i bocca! Non ti basta più battere i denti! Ora devi anche latrare come un cane! Che diavolo ti prende!» Ormai non è più necessario che tu parli e che tu dica chi sei, vigliacco traditore! «Perché io racconterò di te la verità sul tuo malvagio tradimento e la tua infamia!» «Vattene! E racconta ciò che vuoi! Ma non tacere se tu uscirai da qua dentro, di colui che ora ha avuto la lingua così pronta a dire il mio nome!» Lui piange qui, il tradimento dei ghibellini, che doveva difendere contrastando i francesi, e che invece si fece comprare per denaro dai francesi stessi! «Io vidi, potrai dire, quel buoso da duera laggiù, dove tutti i traditori sono immersi nell'infernale ghiaccio eterno!» «Inoltre, se ti fosse chiesto chi altri sia qua giù, tu hai al lato Tesauro dei Beccaria, Pavese, che fu abate di Vallombrosa, e legato dal Papa Alessandro IV in Toscana!» «Poi c'è Gianni de Soldanieri, ghibellino di Firenze, che in una sommossa cittadina, tradì la sua parte, mettendosi a capo del popolo, e credo tu lo trovi più in là, vicino a Gano di Maganza!» «Poi c'è Tebaldello de Zembrasi di Faenza, che anch'esso, traditore, consegnò all'alba la sua città ghibellina ai guelfi bolognesi!» «Ci eravamo già allontanati da quello quando vidi due, immersi nel ghiaccio in modo tale che una testa sembrava essere come un cappello dell'altra, e come si mangia il pane per fame, così quello che stava di sopra il cui capo era cappello divorava il capo all'altro, cioè di quello che stava di sotto, nel punto in cui il cervello si congiunge con la nuca. Quello faceva sulla carne e sul cervello di quel dannato, non diversamente da ciò che fece Tideo, uno dei sette re che assedierono Tebe, il quale, ferito a morte da Menalippo, riuscì però ad ucciderlo, e così per vendetta si fece portare il capo del nemico per morderlo prima di morire. «O tu, che mostri con un atto così bestiale e tanto odio sopra colui che ti stai mangiando, dimmi il perché. Per questo ti assicuro che se tu ti stai comportando comunque con ragione verso di lui, e se saprò chi voi siete ed il vostro peccato, allora io nel mondo terreno contraccambierò, se non mi si seccherà la lingua». Grazie. Grazie. Grazie.